Incoronatemi, re della Big Vanilla! Wow! Ciao a tutti ragazzi, sono Kendall e benvenuti in questo nuovissimo video della Big Vanilla, il mondo con tutti quanti gli youtubers. Non ho ancora fatto riparare a loco il passaggio che si è rotto qualche giorno fa in live, ma vabbè, non fa niente. Più in là lo riparerà quando avrà tempo, forse quest'estate, non ne ho idea. Qualche giorno fa sono andato in live per l'evento del Big Ladro. Infatti il Big Ladro sta mettendo a dura prova tutti quanti i partecipanti della Big Vanilla per vedere effettivamente chi meriterà di ottenere la corona del Big Re. E quindi per vedere chi verrà incoronato re. Ora, la corona si trovava un tempo sopra questa croce gigante di terra. Ma come potete ben vedere non c'è più. Allora, aspettate, mettiamoci l'elitra. No, metto un totem perché io ho paura di morire. Facciamo così. Cosa c'è là? Perché c'è un blocchetto di glass? L'hanno rubata ragazzi, lo sapevo, lo sapevo. Perché alcuni di voi mi hanno scritto nei commenti, Kendall vai a prendere la corona. Sarai tu l'unico vero re della Big Vanilla. E quindi adesso andiamo alla ricerca della corona. Ho un indizio in realtà, io so dove si trova il bunker della corona. Ed è qua sotto tecnicamente. Vediamo se ho ragione. Lo sapevo, lo sapevo. Non mi si può nascondere nulla. Spero non ci siano delle trappole però qua dentro. Che cos'è questo blocco? È un blocco d'ossa. Oh mio Dio. Aspettate. Prendiamo il piccone. E scaviamo un po' in giro. Sì, 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 vedete? Cosa ho trovato? No! Non c'è! Ma che cavolo? Ma come ragazzi? Io ero convinto che fosse qua dentro. Me l'avevate detto anche voi. Mi avete detto che la corona si trova qua. Dannazione, qualcun altro l'ha rubata. Qualcun altro ha avuto la mia idea prima di me. Vediamo, vediamo, fatemi pensare, fatemi pensare. Chi potrebbe averla rubata? Devo andare a controllare nei canali YouTube di tutti. Aspettate. Come faccio a uscire da qua adesso senza creare casino? Devo fare per forza così? Vabbè, io scappo in questo modo ragazzi. Così nessuno si accorgerà mai che io sono stato qua. Voi mi raccomando ragazzi, non dite niente. Perché io so che a volte c'è qualcuno che fa la spia. Cercate di non dire nulla. Allora, i razzetti, elitra e si vola. Perfetto. Devo andare a controllare chi ha rubato la corona. Perché chiunque l'abbia rubata avrà sicuramente fatto un video, giusto? Ed è per questo che quest'oggi, quando io ruberò la corona, la nasconderò senza farla vedere in video. Perché voglio tenerla tutta per me. Poi, non lo so, vediamo che cosa farà il ladro quando scoprirà che l'ho rubata. Ehi, big ladro, se mi stai ascoltando, non serve far esplodere le torri, le case o squalificarmi dall'evento. Basta semplicemente dirmi, Kendall, ridammi la corona. Mi puoi scrivere anche un commento sotto questo video. E io te la ridò. Scendiamo compromessi, nessun problema. Ma sbaglio o Marci ha risolto il problemino del bambù? Allora, io non vedo più del bambù qua nelle vicinanze. Non so quanto tempo ci abbia messo a rimuoverlo tutto. Ma in realtà, togliere il suo bambù era molto più semplice rispetto a quello che avevano messo a casa mia. Perché a lui bastava con la pala togliere tutti quanti i blocchettini di dirt che gli avevo messo e il bambù sarebbe crollato automaticamente. Io invece l'ho dovuto togliere blocco per blocco con la spada. Quindi, lasciamo stare, vabbè. Comunque, in ogni caso, ha messo, come possiamo ben vedere, delle liane. Perché ha riempito casa sua di liane? Non ne ho la minima idea, sinceramente. A meno che sia un altro scherzo di qualcuno, però noi abbiamo fatto pace, quindi niente più scherzi. Siamo in tregua. Io non voglio fare più scherzi a nessuno, siamo tutti amici. E a quanto pare la corona è stata rubata proprio da Marci in persona. Ci ha fatto un video ieri e l'ha nascosta all'interno del castello non costruito. Quindi, ancora il castello non è finito. È in fase di costruzione. Perché, come sapete bene, tutti quanti, ragazzi, è veramente un progetto enorme. Lo stavano facendo... Allora, questo Enderman... Via, via. Facciamo così, mettiamoci l'armatura, se no rischiamo la vita. Dicevo, è un progetto veramente, veramente enorme. Quindi, completarlo non sarà facile, anche perché gli unici costruttori sono Buddy, Marci e Bella Faccia. Però, ho visto dal suo video che l'ha nascosta all'interno delle prigioni segrete fatte da Bella Faccia. Quindi, mi basterà entrare qua, entrare in prigione, sperando che non ci siano, tipo, trappole di nessun tipo. E... no, aspetta, non era qua. Cavolo, come si esce? Eh, non si esce. Ah, sì, si esce. Allora, l'ha messa sotto una di queste botole. Porca miseria, ragazzi, non voglio morire. Ehm... Era... qual era? Questa, questa o questa? Quindi, c'è un passaggio segreto sotto una di queste botole. Però io ho paura. E in caso, c'ho l'acqua. Quindi, in caso, se proprio dovessi morire, uso l'acqua. Vediamo? Non è questa. Forse è questa. Mi butto. No? No, allora, non è qua. Riposiamo questo. Forse è qua. Oh! Sì, è qua. Questa è l'unica botola messa storta. È qua. No. Mangia la mela. Oh, ho trovato. L'ho trovato? Sì! Trovata. Ecco la gloriosa corona con smeraldi e diamanti del Big Ray. Mio Dio, è bellissima. Allora, spero che non ci siano delle trappole. Qua. E come faccio ora a uscire? Dovremmo provare a uscire con l'elitra, forse. Quindi, io voglio assolutamente rubarla. Questa corona è degna di essere indossata da un imperatore. Quindi mi toglierò l'elmetto in ferro. Dammela. Oh mio Dio. Ce l'ho in mano, ragazzi. Mi raccomando, non dite nulla che ce l'ho io. Non lo scrivete nei canali degli altri. Ok, il problema ora sarà uscire da qua. Come faccio? Io ci provo, eh, con l'elitra. Oh, ok. Ho la corona del re all'interno del mio inventario. E direi che è arrivato il momento di farsi un bel giretto con la corona. Allora, io non l'ho mai indossata. Sono veramente curioso. Incoronatemi, re della Big Vanilla. Wow! Wow! Quanti cuori regala! Non ci credo. Allora, aspettate. Mettiamoci tutto. Tutti quanti hanno provato questa corona tranne me. E adesso la sto indossando per la prima volta. Però devo trovare un nascondiglio migliore. E non devo farlo vedere assolutamente a nessuno. Dove potrei nasconderla? Un'idea ce l'ho, in effetti. Ho un'idea per nasconderla. Ciao, ragnetto. Ok, i ragni ti attaccano. Pensavo che tipo, visto che sono il re, mi avrebbero ignorato i mostri. Invece no, evidentemente ti attaccano lo stesso. Loco. Kendall. Ciao. Cosa hai fatto, scusa? No, eri online. Porca miseria, non me ne ero neanche accorto. Allora, ti posso spiegare. Vieni al centro. Torno già al centro. Arrivo. Cosa è successo? Arrivo, arrivo, arrivo. Aspetta, mi metto l'elitra e mi faccio una volata al volo. Loco. Cosa hai fatto, Kendall? Dove sei? Hai fatto una cosa sbagliata? Sono sotto la coce. Non ho fatto nulla di sbagliato. No? È arrivato il momento di inchinarsi di fronte al tuo re. Inchinati. Dai, almeno un inchino con la testa, qualcosa. Cosa? Oh mio Dio, loco. È la prima volta che provo la corona fanta... Oh, guarda. Ogni volta che ti shifti fa degli effetti diversi. È stupendo. Tu l'hai mai provata? No. La vuoi provare? Io la metterò quando sarò il vero re. Dai, ma l'hanno provata tutti. Non vuoi provarla anche tu? No, porto sfortuna a provarla, lo sai. Ma non è vero, non porto sfortuna. Sì, che porto sfortuna. Ascoltami. Dobbiamo assolutamente nasconderla, perché tutti la vogliono rubare. Questo sarà un... Ma l'hai già nascosto, scusa? No, non era nascosta, l'hanno rubata. Questo sarà un segreto tra me e te, ok? Qui sotto. No, 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 troppo ovvio, vieni. Allora, io non farò vedere nel video dove la nascondiamo, però sarà un nascondiglio geniale. Nessuno verrà mai a cercarla in quel punto. Ok, loco? Penso io. No, 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 ci penso io. Io devo sapere dove è nascosta. No, la nascondo io. No, 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 adesso la vado a nascondere, loco. Sei sicuro che non la vuoi provare? Guarda che bella, eh? No, non voglio provare, no, no. È bellissimo. Non mi devi tentare. Guarda, ti dà tre file di cuori, ti dà tutte le particelle, in più diventi il sovrano della Big Vanilla. Ok, vado a nasconderla, eh? Va bene. Adesso non faccio vedere dove sono andato. Loco, in realtà mi servirebbe un piccolo favore. Non è che... Che è successo? Potresti sistemare questo. Ti pago, eh. Ti do una corona. Mi spieghi come hai fatto a romperlo? Senti, è un discorso piuttosto lungo. Lascia stare. Lascia stare. Andiamo a dormire. Ovviamente mi devi pagare. Sì, sì, certo. Ragazzi, mi raccomando, non dite a nessuno che ho rubato io la corona del re. È nascosta in un posto molto, molto sicuro. Allora, questi scheletri li facciamo fuori. È molto, molto lontano, ovviamente. Sì, è un posto molto lontano e sicuro. Nessuno sospetterà mai di quel luogo segreto. Dal vostro Kendall è tutto e noi ci vediamo domani con un prossimo video.